Avvenuta violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per i periodi di detenzione. Con questa motivazione a Napoli sono stati corrisposti 7.000 euro al titolo di indennizzo per un detenuto recluso per quasi due anni e sei mesi in condizioni ritenute dalla magistratura disumana e insopportabili. A disporre risarcimento all'uomo la magistratura di sorveglianza di Napoli che ha accolto l'istanza presentata da un cinquantenne napoletano formulata in aula dal suo avvocato di fiducia. Il ricorso era stato presentato contro lo stato di detenzione in condizioni ritenute disumane per il sovraffollamento nel carcere di poggio reale. Lamentando la violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo il giudice ha confermato il risarcimento esclusivamente per 910 giorni. Il magistrato di sorveglianza ha esaminato diversi elementi cruciali del caso in questione per valutare la situazione detentiva non limitandosi alle sole dimensioni della cella ma considerando anche l'accesso alle attività ricreative le condizioni igieniche e sanitarie e la durata complessiva della detenzione. Sovraffollamento e mancanza di personale necessario per assistere immigrati che non parlano bene l'italiano e detenuti con problemi psichici sono i principali fattori che rendono insostenibile la situazione all'interno del carcere di poggio reale a Napoli.